A San Mauro va in scena la gara che metteva di fronte i padroni di casa, la capolista Rimini. I biancorussi si affidano al consueto 4-3-3 con la voglia di legittimare i primati in classifica. Gli uomini di Protti invece sono desiderosi di riscattare la prestazione opaca con l'Atleti Capi. La partita vede da subito i Rimini gettarsi in avanti. Da punizione viene pescato l'ex Pordenone Germinale, la cui conclusione viene sventata in angolo dall'ex Rimini Adorni. In velocità viene lanciato l'ex prodotto della Roma Piscitella, il cui diagonale viene bloccato nuovamente a terra da Adorni. Dallo stesso Piscitella parte l'azione del vantaggio. Il traversore dell'esterno offensivo porta l'atterramento in area di rigore di Germinale, stoppato in modo irregolare dal Casadio. L'arbitro indica il dischetto dagli 11 metri Germinale spiazza Adorni per il vantaggio biancorosso. Il mattatore del match Piscitella allarga questa volta per Gabbianelli, il cui tiro risulta impreciso. Da punizione la San Maurese conquista il penalti del pareggio, una mano Galeotti in area avversaria provoca il penalti che Merlonghi trasforma freddando Marietta. La replica del Rimini è immediata, Andres pesca Germinale, la cui deviazione di testa si stampa sul palo alla destra di Adorni. Il vantaggio è solo rimandato di una manciata di minuti, Piscitella va via sulla sinistra, serve a Gabbianelli il pallone dell'1-2. Il resto lo fa alla perfezione l'ex Albino Leffe, Rimini che in questo momento del match sale in testa alla classifica in solitaria. Nella ripresa le occasioni lattitano, da segnalare questo tentativo di Ferrara che chiama la presa Adorni. Prima della mezz'ora l'ex Pineto Tomassini a chiamare nuovamente l'intervento all'estremo di casa. Cinque minuti più tardi ci prova anche l'ex Antel Andres senza inquadrare lo specchio della porta. A quattro da termine la San Maurese crea la palla più limpida per il pareggio. Da punizione di Merlonghi, Lombardi colpisce la sfera di testa con Marietta che ci mette i pugni. Molto efficace dalla stessa Mattonella, questa volta la punizione è battuta sempre da Merlonghi con Marietta che è chiamato a una comoda presa. Dall'altra parte nell'extra time ci prova a pari con il pallone che si alza sopra la porta difesa da Adorni. Il Rimini con questa vittoria sarà al comando in solitaria approfittando anche della sconfitta del mezzolara. Per la San Maurese la terza sconfitta consecutiva suona come un campanello d'allarme. Ma se si gioca così siamo sicuri che la salvezza sia a portata di mano. Per la San Maurese la terza sconfitta